L'articolo 20 del regolamento, lettera F, dice chiaramente che a maggioranza decide l'HB Gruppo. Detto questo, io so che molti di voi sono esperti dei poltrone, ne hanno addirittura due, una qui e una in Parlamento. E di fatti intorno alle poltrone vi ritrovate a discutere mentre abbiamo un consiglio su Addaq che avete fortemente voluto. Andate a lavorare! Andate a lavorare! Dopodiché, ordine consigliera Agnello, consigliere Calabrese, consigliera Guadagno. Allora, un attimo solo, consigliere, calma, cortesemente. Noi non permetteremo nessuna strumentalizzazione di quest'Aula, voi siete abituati probabilmente a strumentalizzare le poltrone e le posizioni. Quest'Aula per noi è sacra e non permetteremo che nessuno la strumentalizzi per nessuno così. Consigliera Mussolini, consigliera Meloni, consigliera Meloni, ha chiesto questo intervento, se cortesemente lo lasciamo completare. Il fatto che siano infastititi... Sì, consigliere Ferrara, un attimo solo, consigliere, può fare l'intervento che ritiene. Non è che deve fare quello che dice lei. Mi meraviglio il consigliere Giacchetti e l'ottorevole Meloni che si prestano a questo giochetto indecente, intorno a una poltrona, a un seggio, quando abbiamo un consiglio su ADCA che aspetta, che voi avete voluto tra l'altro. Detto questo, non permetteremo, Presidente, nessuna strumentalizzazione di questa cosa da parte di nessuno. Per noi quest'Aula è sacra, i costi per sedersi ci sono, la maggioranza ha deciso, vi potete accomodare e finalmente discutiamo di ATAC. Grazie.